Bentornati con Super Mario 64 DS, uno dei giochi più belli di Super Mario Wow, da quanto tempo che non lo dicevo Mi scuso in anticipo per la qualità video Perché sto registrando direttamente il DS Perché è l'unico posto in cui ho un file con 150 stelle per poter fare questo Quarto extra e credo ultimo, spero ultimo Per questa let's play che è di tre anni fa ormai, credo, due o tre anni fa Allora, in questo extra, che sarà l'ultimo, ripeto Farò... Va Luigi! Esatto, vi faccio vedere come si sblocca Va Luigi Intanto bisogna prendere questo fiore potenza con Luigi, mi raccomando, prendetelo con Luigi Poi bisogna abbassarsi con Luigi E andare qua in questa finestra con Luigi invisibile Non ha funzionato Non ha funzionato Oh, ma chissà perché non ha funzionato Forse... forse non ha funzionato Perché non ho beccato bene quella finestra O più semplicemente non ha funzionato perché Va Luigi in questo gioco Non c'è Non c'è Va Luigi in questo gioco Non c'è Quindi smettetela di chiedermelo nei commenti Basta Il 99% dei commenti di questa let's play Sono Eh ma guarda che c'è Va Luigi in questo gioco Devi andarlo a sbloccare No, non esiste Ve lo sto spiegando in tutti i modi Non esiste Basta chiedermelo Ciao